Mentre a Ragusa si tenta di tornare seppur lentamente alla normalità in molti comuni siciliani, la situazione è certamente sfuggita di mano, città al collasso rifiutato a stati ovunque per le vie dei centri cittadini. L'onorevole Nello Di Pasquale torna a parlare del processo Eco, secondo il vicepresidente della Commissione Bilancio e Latt, è stato fatto un grave errore trascendendo nell'inchiesta la loro amministrazione comunale della città. Le ultime notizie legate al fenomeno di spaccio in piazza San Giovanni fanno sorgere la preoccupazione dei cittadini. La centrale piazza, ubicata a pochi mesi dal palazzo di governo, è pericolosa. Oggi a Mtg parlano i cittadini. Nel giorno in cui comincia il suo ritiro precampionato, la squadra di calcio Catania ha incontrato la sassuore Valentina Scialfa e il sindaco Enzo Bianco. Tanti tifosi che hanno approfittato dell'occasione per scattare foto con i propri idoli. Ancora buon pomeriggio e bentrovati. Dopo l'emergenza, rifiuti dei giorni scorsi in provincia di Ragusa, si cerca lentamente di tornare alla normalità. Gli ultimi provvedimenti del presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, hanno stabilito il sito dove i comuni devono scaricare le quantità giornaliere da conferire. Provvedimenti che però rallentano le operazioni di raccolta dei rifiuti delle città. Facciamo il punto della situazione nel servizio di Carmela Minardo. Tornare lentamente alla normalità è quanto stanno cercando di fare i sindaci dei comuni della provincia di Ragusa dopo l'emergenza rifiuti dei giorni scorsi determinata dalla chiusura della discarica di Bellolampo nel Palermitano. Ieri l'ennesima ordinanza del presidente della regione, Rosario Crocetta, in cui ha indicato le discariche e le quantità di spazzature che i comuni possono conferire giornalmente. Medie calcolate rispetto al quantitativo annuale conferito, che ovviamente è insufficiente a far consentire il superamento dell'emergenza. Vittoria potrà scaricare 77 tonnellate a fronte delle 80 prodotte. Modica 58,5, Santa Croce 24, Comiso 23,8, Pozzallo 16. Quantitativi che per i comuni più grandi rallentano il ritorno alla normalità. I cassonetti, soprattutto nelle periferie, si presentano ancora pieni. A tutto ciò si aggiunge anche la precedenza che, così come confermato da alcuni primi cittadini, viene data agli autocompattatori dei comuni sede di discarica, non seguendo l'ordine di arrivo. Insomma, sono bastati pochi giorni di emergenza per ritrovarsi con cassonetti ricolmi e adiacenza in vase da pattume. La Sicilia è in piena emergenza e, oltre ad aprire le discariche, così come fatto da crocetta con quelle di Siculiana e Gela, è necessario attuare un piano serio nel giro di pochi mesi. In provincia di Ragusa alcuni primi cittadini si stanno attivando in tal senso e hanno presentato ieri i bandi di gara all'Urega per la raccolta differenziata. Si tratta di Ragusa, Modica e Chiaramonte e Golfi. A dare l'esempio sulla buona riuscita della raccolta porta a porta è il comune di Monterosso Almo. Avviata dal sindaco a maggio scorso ha già toccato l'80%, una dimostrazione che i cittadini sono pronti a collaborare se chiamati in causa. E se da una parte il governo regionale dice che la situazione dei rifiuti è sotto controllo dall'altro i cittadini stanno per essere sommersi proprio dai rifiuti. Allora vediamo qual è la situazione in Sicilia nel servizio di Lorenzo Anfuso. Una Sicilia in ginocchio che pian piano sta affondando nell'immondizia. È l'attuale condizione dell'isola ritrovatasi diversi metri sotto il livello non del mare ma dei rifiuti. I proclami di cessato allarme da parte del governatore Crocetta non hanno trovato grande riscontro nei sindaci dei comuni in difficoltà. Critica la situazione a Carini dove attualmente stazionerebbero nelle strade ben 400 tonnellate di rifiuti, accumulatesi per la mancata raccolta dei giorni scorsi. In attesa dell'annunciata riapertura della discarica di Gela, ieri l'ultima ordinanza straordinaria da parte del Presidente della Regione che ha spostato il conferimento da Bello Lampo, ormai piena, a Castellana Sicula ribadendo che si sta facendo il possibile nonostante qualcuno abbia voluto far esplodere l'emergenza nel pieno della stagione estiva. Secca la replica del primo cittadino di Carini, Giovì Monteleone, che ha rivelato come lo stesso Crocetta l'abbia accusata di non aver conferito per tre giorni dal 2 luglio e di aver così creato l'emergenza nella sua zona. Manca un bello lampo chiusa e il piano regionale basato sul conferimento dell'impianto. Palermitano, il sindaco, si chiede dove avrebbe dovuto inviare gli autocompattatori. Situazione limite anche a Messina, dove nonostante il permesso di schericare a Motta Sant'Anastasia, il Comune è costretto a limitare il conferimento a 260 tonnellate, mediamente quasi 20 in meno del prodotto giornaliero, fattore che ha finito per riversare in strada 100 tonnellate accumulatesi nei giorni. Medesima condizione a Barcellona, Pozze di Gotto, Milazzo e Marsala, così come Porto Empedocle nell'Agrigentino. A Bagherì ha colpo di mano del sindaco a 5 Stelle, Patrizio Cinque, che sta togliendo dalle strade i cassonetti per costringere i cittadini alla differenziata. Risultato, rifiuti lasciati per terra in spiazzali e vie del paese. Gli estremi, per uno stato di calamità, ci sono già da tempo. Il parlamentare Nello Di Pasquale interviene sul caso Scicli in merito alla soluzione del sindaco dimissionario Franco Susino, la sua soluzione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il deputato dunque chiede che alla luce della sentenza venga avviata una revisione degli atti che hanno portato allo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale e la revoca del provvedimento. Vediamo. L'accusa di associazione mafiosa, le dimissioni del sindaco Franco Susino, lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, la soluzione del sindaco dimissionario e l'esclusione dello stempo mafioso. Hanno ucciso gli uomini prima di sapere di che morte dovevano morire? Tutto questo polverone per nulla. Il Consiglio Comunale rimane sciolto e il Susino assolto perché il fatto non sussiste. Vuole vederci chiaro il deputato regionale Nello Di Pasquale che ha chiesto l'avvio di una revisione degli atti che hanno portato allo scioglimento per mafia del Comune di Scicli e lo revoca di quel provvedimento con un'interpellanza parlamentare al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente della Commissione Regione Antimafia e per conoscenza al Capo dello Stato Mattarella, al Presidente del Consiglio Renzi, al Ministro dell'Interno Alfano e al Prefetto di Ragusa. Librizi. Il Parlamento era chiesto di fissare una data per le elezioni per restituire alla città riferito Di Pasquale una rappresentanza di governo democraticamente eletta alla Commissione Regione Antimafia di intraprendere degli accertamenti sui fatti degli ultimi due anni in modo da chiarire come si sia potuto arrivare a un provvedimento così grave rispetto a fatti che sono stati smentiti poi dalla verità processuale. Di Pasquale ha aderito al ricorso che gli ex consiglieri comunali presentarono al Tar del Lazio contro lo scioglimento. I fatti accertati dalla magistratura hanno dimostrato che non c'era, non c'è mafia Scicli, ma solo delinquenti comuni che avevano tentato di incunearsi nel tessuto amministrativo. Dopo due anni a giugno di Pasquale, con tristezza, devo dire che avevo ragione, il provvedimento di scioglimento per mafia del Comune di Scicli ha macchiato di un'onta gravissima un'intera comunità. Adesso conclude, si deve restituire la città agli sciclitani e con essa la dignità. Migliorano le condizioni del 65enne che era stato accoltellato il 12 luglio scorso mentre riposava in camera da lettore nella sua abitazione in campagna incontrata a Monte Calvo a Vittoria. L'uomo rimane ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove era stato anche sottoposto a un intervento chirurgico all'addome ed è stato sottoposto proprio ieri mattina a un interrogatore, a un'audizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Ragusa e della compagnia di Vittoria. Lo hanno sentito appunto per avere informazioni utili alle indagini. i militari stanno continuando, come sapete, a indagare per risalire all'identità dell'aggressore e al movente. L'ennesimo arresto di uno spacciatore in piazza San Giovanni a Ragusa conferma che il centro storico è ormai diventato luogo di smercio di stupefacenti, una situazione al limite che ha anche portato il primo cittadino a chiedere al prefetto con la convocazione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica. Ma cittadini ed esercenti, come vivono questa situazione? Sentiamo le loro dichiarazioni in questo servizio. Preferiscono non parlare gli esercenti di piazza San Giovanni a Ragusa. Lontano dai microfoni però ci confermano che la situazione è balorda. Si sente preoccupato? Non so, perché mi sta preoccupando. Gli ultimi arresti lo evidenziano. Ormai a piazza San Giovanni lo spaccio è di casa. Soprattutto nelle ore serali, il luogo una volta fulcro vitale della città, adesso si anima di figure losche, persone senza scrupoli di ogni nazionalità che non hanno nessuna remora, a cedere lo stupefacente anche ai giovanissimi che frequentano la zona, pur di guadagnare qualcosa. Il centro storico di Ragusa Superiore rischia di diventare un ghetto. La zona ormai è invivibile, è considerata la recrudescenza della microcriminalità. Fa male soprattutto a chi in quei luoghi ha trascorso la propria infanzia. Io che sono nato qua proprio nel centro storico, che ricordo qua San Giovanni, la piazza San Giovanni, come era e come adesso, fa un po' di male. Dopo tutti questi arresti per spaccio, voi siete preoccupati? Certamente siamo preoccupati, magari non facciamo troppo tardi la sera, però è tutto relativo, non è che si può evitare eventuali danni. Dobbiamo fidarci un po' della nostra città, che in generale è tranquilla. Speriamo che sia un fenomeno passeggero. Io abito qua in Corso di Torrivento, ieri ho visto questi volanti, però già si sapeva che qualcuno mi spacciasse. Ma siete preoccupati voi residenti che vivete proprio qui al ridosso di piazza San Giovanni? Sì, porterà delinquenze, però so che stanno facendo qualcosa, speriamo bene. Situazione al limite che ha portato anche il sindaco Federico Piccito a chiedere al prefetto di convocare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Anche le associazioni culturali Raguse in Movimento ed Area Eblea si dicono preoccupate e tramite i loro rappresentanti, Mario Chiavola e Pippo Marino, invitano il primo cittadino a chiedere nel corso dell'incontro a Palazzo di Governo nuovamente l'istituzione del poliziotto o del carabiniere di quartiere che potrebbe rappresentare un deterrente ai fenomeni di microcriminalità. I due puntano il dito anche contro le scelte urbanistiche che avrebbero portato a ghettizzare il centro storico. Aspettiamo la mancata attuazione del piano particolareggiato, affermano in una nota, che avrebbe dovuto fornire un certo vigore a tutte le intenzioni di recupero decantate dai vari amministratori che si sono succeduti a Palazzo dell'Aquila. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno distrutto ieri pomeriggio un deposito sulla strada statale 115 al chilometro 2 in territorio di Vittoria. La polizia sta continuando le indagini per accertare l'eventuale irresponsabilità. Sentiamo i dettagli. Distrutto dalle fiamme un deposito con all'interno legno e plastica per imballare prodotti ortofrutticoli salvata dal rogo lattivo a segheria. Intenso lavoro ieri pomeriggio per le squadre dei Vigili del Fuoco di Vittoria e Santa Croce Camerina che con due autobotti in cinque ore hanno sedato le fiamme che si erano propagate sulla strada statale 115 al chilometro 2 in territorio di Vittoria. L'allarme è stato dato dal personale impegnato nel deposito. Il tempestivo intervento delle squadre dei pompieri ha evitato il peggio. Il capannone si estende dalla strada fino a un terreno ricco di vegetazione sterpaglia da dove ha avuto origine l'incendio. È probabile che qualcuno abbia dato fuoco alle sterpaglie. Il forte vento è determinato per propagarsi delle fiamme fino a raggiungere il capannone. L'origine colposa è quella più accreditata. Non ci sono feriti ma solo danni per circa 100.000 euro e poteva finire peggio considerato che in quell'area insistono diverse fabbriche ed edifici industriali. La polizia di Vittoria sta continuando le indagini per accertare le eventuali responsabilità. E il maltempo si è abbattuto sulla Sicilia creando innumerevoli disagi. Oltre 500 persone sono rimaste bloccate a Milazzo perché a causa del forte vento sono stati interrotti i collegamenti con le eoli. Vediamo questo servizio. Classiche giornate di un settembre qualunque hanno soppiantato quelle di luglio negli ultimi giorni lasciando impreparati tutti i siciliani in attesa del weekend al mare. A Palermo non si è registrato nessun disagio particolare tranne una forte pioggia abbattutasi questa mattina in città per circa un quarto d'ora e che ha lasciato poi posto alle nuvole. Ad un miglio e mezzo dal golfo di Bonagia invece un veliero di circa 24 metri di lunghezza ha cominciato ad imbarcare acqua affondando successivamente su un fondale di circa 50 metri. Le 11 persone a bordo fortunatamente sono state salvate dalla Capitaneria di Porto e dai Vigili del Fuoco di Trapani. Blackout invece per i collegamenti marittimi con le isole minori. La nave traghetto Filippo Lippi non ha potuto effettuare la corsa prevista per le 9 di questa mattina sulla tratta Milazzo e Olie per via delle forti raffiche di vento. Stessa sorte per il traghetto Antonello da Messina che collega il capoluogo siciliano a Ustica e per la vesta Trapani-Egadi. Per i passeggeri, rassicurano dalla società Navigazione Sicilia, sono previste adeguate misure. E' partita in questi giorni un'iniziativa di alcune senatrici del Partito Democratico tra cui anche Venerina Padua, con la quale verrà ricordata in aula a fine seduta ogni donna uccisa per mano di un uomo. I dati Istat svelano la triste realtà. Ogni due giorni viene uccisa una donna in Italia. In Italia ogni due giorni viene uccisa una donna. Il 46,03% delle vittime muore per mano del partner. Sono circa 160 le donne uccise ogni anno. Chi colpisce è chi ha le chiavi di casa. Sono i dati Istat che raccontano una realtà drammatica che non accenna neanche sensibilmente a migliorare. Ma non si deve parlare solo di morte per mano del partner come unico allarme perché anche solo la violenza psicologica è una condanna a morte. Parte dal Senato da Palazzo Madama l'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e parte dalle donne, dalle senatrici, tra queste anche Venerina Padua. Verrà ricordata in aula a fine seduta ogni donna uccisa per mano di un uomo a cui è oppure è stata legata da una relazione amorosa. L'obiettivo è quello di ricordare alle istituzioni del Paese l'assoluta necessità di fermare la violenza nei confronti delle donne. Le giustificazioni di gerosia, tradimento, abbandono raptus molto semplicemente sono inaccettabili. Il femminicidio, dice la senatrice del PD Venera Padua, si pone quasi sempre a conclusione di tutta una serie di comportamenti violenti di lunga data. Con la legge 119 del 2013 di contrasto alle violenze di genere che l'attuale Parlamento ha approvato in attuazione dalla Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e discriminazioni di genere. L'invito è rivolto anche alle donne che devono trovare il coraggio di liberarsi da questa condizione di assoggettamento, di violenza e denunciare. A Ragusa ci sono centri antiviolenza molto attivi, come Donna Sud a Vittoria, oltre agli sportelli nei comuni e alle ASP. Mentre noi parliamo di lotta al femminicidio, i carabinieri hanno già fermato un ottantenne pensionato, Giovanni Baiada, con l'accusa di aver ucciso la moglie, Maria Licari, 70 anni, ieri a Villa Grazia di Carini, nel Palermitano. Dalle testimonianze raccolte è emerso che la donna spesso veniva picchiata dal marito, violenze mai denunciate. La senatrice Padua ha ricordato che è stato anche proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e sono stati rinforzati strumenti di protezione per una maggiore sicurezza delle donne minacciate, ma serve fare di più. Senza un'unione di intenti, che rivolgendosi a tutti gli uomini e a tutte le donne del nostro paese, ha detto la Padua, anteponga la cultura del rispetto, sarà difficile compiere concreti passi in avanti. Noi intanto ci proviamo, e io sostengo con convinzione la proposta della staffetta parlamentare. Così, venerina Padua. E adesso parliamo della mancata illuminazione sulle strade provinciali che conducono alle località balneari. Il caso preclatante denunciato nei giorni scorsi è stato quello di San Pieri. Ieri ad aggiungersi anche Marina di Modica, una situazione che mette a rischio l'incolumità degli automobilisti. Ce ne parla Marco Scavino. A partire da lunedì saranno revisionati tutti gli impianti di illuminazione del litorale Ibleu gestiti dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il caso era già stato sollevato in passato, quando alla nostra redazione erano arrivate segnalazioni sulla totale mancanza di luce all'ingresso di San Pieri. La frazione Riviera Asche, infatti, accoglie i visitatori che la raggiungono nelle ore notturne completamente al buio. Mancanza di visibilità e forte pericolo vengono segnalati dagli automobilisti, che sottolineano come questo possa costituire, specialmente ora che le strade verranno prese d'assalto dagli automobilisti per raggiungere le località balneari, un rilevante rischio per l'incolumità pubblica. Ieri sera anche il tratto di strada che va ad intersecare con l'ingresso di Marina di Modica si presentava avvolto dalle tenebre. L'unica fonte di illuminazione all'incrocio era quella proveniente dagli impianti del comune di Modica all'ingresso della frazione Riviera Asca. Una situazione che a stagione inoltrata risulta incomprensibile e inspiegabile, ma che, allo stesso tempo, mette in evidenza come il Libero Consorzio Comunale di Ragusa stia attraversando, a causa dei tagli regionali, un momento non florido della propria storia. Adesso l'ente deve affrontare, infatti, quello che una volta era ordinare amministrazione o interventi da nulla, quasi come se fossero interventi straordinari. Secondo quanto riferisce Gianni Molè, capo di gabinetto dell'ente di Palazzo di Viale del Fante, lunedì, oltre a verificare lo stato e a riparare, qualora ce ne fosse bisogno, i guasti presenti agli impianti, verrà allargata la fascia oraria di accensione, garantendo così l'illuminazione anche nelle ore notturne, per favorire gli spostamenti degli automobilisti. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Ancora ben trovati in studio, il Governo regionale intervenga con urgenza per permettere al ci artistico Galilei Campailla di Modica di avere locali idonei all'attività didattica, scongiurando di smembrare l'istituto in più classi. Nello Musumeci ha presentato insieme con i deputati del gruppo Lissa Musumeci Formica e Ioppolo un'interrogazione al Presidente della Regione, Crocette, l'assessore all'istruzione, Marziano. Vediamo. Il Governo regionale intervenga con urgenza per permettere al liceo artistico Galilei Campailla di Modica di avere locali idonei all'attività didattica, scongiurando di smembrare l'istituto in più plessi. È l'oggetto dell'interrogazione parlamentare dell'On. Nello Musumeci, nonché Presidente della Commissione Antimafia all'Ars. Come ricorderete, a causa dei tagli dei fondi da parte del Governo regionale e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la poca disponibilità economica, ha dovuto rescinere i contratti dei locali dove erano ubicate le classi di alcuni istituti scolastici superiori. Tra questi, anche il liceo artistico di Modica. Sono circa cinque le classi su cui in queste ore la dirigenza del Galilei Campailla sta lavorando per trovare a loro disposizione una collocazione e, insieme a queste, si aggiungono i laboratori e le palestre. Una situazione difficile che l'On. Nello Musumeci ha scelto di mettere in evidenza presentando un'interrogazione all'Ars. A partire dal 2018, stando agli atti, il Galilei Campailla non avrà più, nelle proprie disponibilità, l'attuale sede centrale del liceo artistico. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha sottolineato a più riprese che sta lavorando per trovare una soluzione al problema, operando, tra l'altro, un nuovo tipo di contrattazione con i proprietari degli immobili in questione. Sicuro l'abbassamento dei fitti, ma l'ex provincia regionale non esclude altre strade. E' un Don Corrado amato da tutti quello che ha partecipato ieri ai festeggiamenti di Santa Rosalia a Palermo. Parole di stima e apprezzamento per l'Arcivescovo sono state espresse dal sindaco, Leo Luca Orlando. Il primo festino di Santa Rosalia per l'Arcivescovo Lorefice è stata l'ennesima attestazione di amore nei suoi confronti da parte dei cittadini palermitani. Una folla in festa lo ha accolto applaudendo come se le mani fossero strumenti da suonare a festa. Già a dicembre il popolo palermitano aveva accolto il nuovo Arcivescovo come dimostrazione concreta del cambiamento messo in atto da Papa Francesco. e adesso anche se ancora i suoi primi 365 giorni di mandato non sono trascorsi lui ha catturato la fiducia e il bene di tutti. Don Corrado in effetti non è nuovo a questo tipo di attenzione da parte dei fedeli. Basti pensare a Modica dove sono tanti i fedeli che in lui hanno trovato una nuova speranza. Con la 392esima edizione del festino però è emerso che l'apprezzamento nei confronti dell'Arcivescovo arriva anche dal primo cittadino. E' proprio il sindaco Orlando infatti sul carro della Santuzza a gridare il nome di Monsignor Lorefice invitando al contempo la folla ad accoglierlo bene sottolineando che per lui quello è il primo festino. Attimi belli e pregnanti di sentimenti di nuova speranza Lorefice che antepone la fratellanza soprattutto ha già dato segnali forti nel territorio. La chiesa per sua volontà ha aperto ai bisognosi ha accolto famiglie e si confronta con tutti. Un atteggiamento che trova stima e rispetto nelle parole del primo cittadino palermitano. E' proprio Orlando a dire che l'orefice è il segno che la chiesa di Papa Francesco è arrivata anche qui. C'è comunione di intenti. E anche questa volta Don Corrado l'ha superata. La squadra del Catanio Calcio nel giorno in cui comincia il ritiro precampionato ha incontrato il sindaco Enzo Bianco e l'assessore allo sport Valentina Schalf uno scambio cordiale in cui il primo cittadino ha rivolto gli auguri della città per una stagione ricca di successi. Sarà Don Zuso. Pronti e carichi per affrontare il ritiro precampionato i ragazzi del Calcio Catania hanno incontrato questa mattina il sindaco Etteneva Enzo Bianco e l'assessore allo sport Valentina Schalf nell'ambito di un rapporto di reciproca disponibilità e proficua collaborazione. Sono sicuro che con l'affetto di tutti i catanesi che si stringeranno alla loro squadra con particolare passione svolteremo torneremo a cominciare ad avere un presente calcistico alla stessa della nostra tradizione. Se c'è un assetto societario che vuole investire nella città per riportarla ai massimi livelli noi faremo la nostra parte esistono già dei progetti per realizzare un nuovo stadio alla piana vicinissimo alla città. Insieme al presidente Davide Franco e all'amministratore delegato Pietro Lomonaco il capitano Marco Biaggianti e l'intera squadra che sarà allenata a Giuseppe Rigoli si è presentata alla città. Tanti tifosi infatti che sono accorsi sia in Piazza Duomo che alla Comune di Catania per poter fare una foto con il proprio idolo ma soprattutto sperando in ottimi risultati per la stagione 2016-2017. Penso che ci si deve riappropriare piano piano di un sentimento generale che c'era che non è mai venuto bene perché io l'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo con forza che la gente di Catania ama la sua squadra ama la propria squadra il Catania è parte integrante del tessuto sociale della città. La squadra in grandissime linee è definita alle 11.30 doveva arrivare un altro giocatore l'aereo ritardo arriva alle 12.30 abbiamo acquistato Paolo Ucci quindi è ufficiale anche questo è un bel un bel ritorno un giocatore che ha sempre giocato in A e B ritengo che fra 3-4 giorni arriverà stasera arriverà un altro giocatore straniero fra 3-4 giorni un altro giocatore straniero dopo di che arrivederci grazie penso che ci sono i buoni auspici vedo tanta positività attorno a questa squadra e mi auguro che noi perché dipende solo da noi con l'entusiasmo possiamo riconquistare la tifoseria catanese che ritengo che sia tra le più passionali d'Italia andrà in onda uno speciale per il taglio del nastro lo scorso 10 luglio al Cavarina Beach 2016 sulla spiaggia Camarana a Scoglitti un evento atteso ogni anno nella frazione organizzato per il sedicissimo anno dal patron Alessandro Barone che coinvolge tutte le generazioni per una moltitudine di discipline sulla spiaggia e lo speciale andrà in onda questa sera sabato 16 luglio alle 21.35 domani domenica 17 luglio alle 21 e il mercoledì 20 luglio alle 23 e questa è l'ultima notizia non ci sono aggiornamenti grazie ancora per averci seguiti e buon fine settimana grazie a tutti